Avete vinto contro il Monreale 4-1, una bella vittoria che riscatta la sconfitta dopo la prima gara e tu sei stato anche protagonista con una bella tripletta, quindi ti chiedo come hai visto tu la partita e quali sono le tue sensazioni dopo questa bella giornata a livello personale. La partita è stata molto difficile, noi siamo stati bravi a uscirne. Poi riguardo alla tripletta non interessa molto a me i tre golle, mi interessa molto la squadra, quello che facciamo con la squadra. Come ti trovi con il gruppo, come vedi i tuoi compagni dopo questo inizio di campionato? Allora la squadra è molto, mi ha accorto bene, molto educata, rispettosa. Quali sono le tue ambizioni per il futuro, anche a livello di squadra come campionato, anche se hanno obiettivi a livello di gol, per esempio magari superare la doppia cifra? Allora io punto su arrivare molto in atto, anche in Serie A. C'errebbe un grande piacere anche essere convocato in una nazionale, una nazionale del nostro italiano.